Martina, oggi abbiamo visto un bel Torino, avete giocato bene, però peccato per il risultato finale. Sì, siamo state un po' sfortunate, è stata una partita secondo me abbastanza equilibrata, Ferrandi ha fatto un bel gol, diciamo che noi arrivavamo da un momento un po' difficile, siamo comunque contenti della nostra prestazione, in quanto comunque la squadra ha giocato come sa giocare. Sì, abbiamo iniziato molto bene, abbiamo fatto un primo tempo veramente con carattere, il secondo tempo siamo calati, il Brescia è una gran squadra a mio parere, quindi abbiamo peccato purtroppo, siamo riusciti a tenerli finché abbiamo potuto. Martina, adesso per te ci sarà l'impegno degli Europei André 19, come vi sentite come gruppo e come squadra? Siamo molto convinte, Elisa, mia compagna, io e lei siamo il capitano e il vicecapitano, cercheremo di trasmettere la nostra forza, la nostra grinta, è un'esperienza che capita poche volte nella vita, cercheremo di sfruttarla al meglio.